Mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, noi non pensiamo, non facciamo, cioè sotto gli occhi di tutti il tipo di lavoro che si sta facendo, il tipo di lavoro che si sta facendo nelle periferie per raccogliere gli immigrati perché molto spesso e con troppa superficialità si mettono insieme immigrati con delinquenti, immigrati con clandestini e sarebbe interessante intanto cominciare a chiamare le cose, le persone per nome, cominciare anche a capire come l'Italia da questi comportamenti, come quelli dell'Università dei Tre di qui sopra, certamente l'Italia non esce con l'immagine bella l'immagine invece che l'Italia, proprio grazie anche ai beni culturali, grazie alla cultura che ha l'immagine che abbiamo Scusi, c'è anche secondo voi un problema di equità nella distribuzione come democerano questi Presidenti di Regione o è un fatto meglio? Io penso che questo è un problema secondario, quello dei numeri, il problema è invece essere d'accordo sull'atteggiamento di fondo o ci si mette d'accordo su queste cose, non penso che sia questo il diritto, quando si comincia a dare i numeri in tutti i sensi della parola di ricetta al progetto